Per sottolineare la generosità del marchio Dacia, perché appunto di certa forma è proprio il fatto di accogliere come se fosse a casa i propri clienti, dunque è proprio nello spirito Dacia che abbiamo scelto questo posto. Dacia, ne abbiamo già parlato a inizio novembre, è un success story, una storia di successo che continua anno dopo anno, sono dieci anni e lo vediamo molto chiaramente su questa chart, qui è la situazione europea, lo vedete un lancio dopo l'altro per anni e anni, sono dieci anni, ma basta solo un numero per raccontarvi il successo, 3,6 milioni di Dacia in dieci anni, un numero veramente importante, calcolate questo solo con il marchio Dacia, con il marchio non diventano numeri veramente stratosferici. Risultato ottimo anche in Italia, 226 mila quasi Dacia vendute, non sono ancora dieci anni perché siamo partiti dal 2006, ma quasi in dieci anni, dunque un numero molto importante, vi ricordo rapidamente Dacia è commercializzata in 44 paesi e viene prodotta in tre fabbriche, due sono in Marocco, Tangeri e Casablanca e una è in Romania, Pitesti.